La giunta comunale di Castellabate, vista la difficoltà operativa dei sanitari dell'USCA di Agropoli, che riescono a soddisfare le richieste alle attività assegnate con enormi sforzi, avendo nella disponibilità attuale una sola autovettura di servizio, ha stabilito di dotare l'asla distretto sanitario 70, USCA di Agropoli, di un'autovettura incomodato d'uso gratuito per un mese. La vettura, che è stata consegnata proprio ieri mattina, andrà ad aggiungersi a quella già utilizzata finora da medici e infermieri, impegnati nelle unità speciali di continuità assistenziale per la presa in carico di pazienti a domicilio. L'auto verrà utilizzata non solo per l'esecuzione di tamponi molecolari, ma anche per il monitoraggio dei pazienti positivi e visite domiciliari. La donazione al personale è frutto del riconoscimento del contributo che il personale sanitario ha dato in questi mesi e sta fornendo per fronteggiare l'emergenza Covid in prima linea, dichiara il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, con la donazione di un altro mezzo intendiamo supportare le necessità degli operatori per venire incontro alla grande mole di attività di prevenzione e monitoraggio che l'ASRA sta svolgendo qui a Castellabate, soprattutto nell'ultimo periodo.